Martedì 9 maggio ci troviamo a Venezia Maestre per un nuovo workshop ed infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Oltre 200 professionisti hanno partecipato a questa giornata di formazione dal titolo prestazioni energetiche, sistemi di certificazione normativa, tanti temi che abbiamo trattato con i professionisti presenti alla giornata, tante le aziende che hanno raccontato anche le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Molto soddisfatti di essere qui in Laguna, a Mestre, per questo evento a cui puntavamo molto perché soprattutto in zone anche più difficili da un punto di vista climatico è importante far vedere e enfatizzare le caratteristiche dei prodotti che stiamo sviluppando, non solo per dare estetica e finitura agli oggetti che gli architetti vanno a progettare ma anche per dare durabilità nel tempo e quindi questo evento sta andando molto bene, stiamo ricevendo molte richieste e siamo veramente soddisfatti della giornata. Noi puntiamo ai progettisti a 360 gradi, li supportiamo nello sviluppo del prodotto, nella definizione dei capitolati e poi nel cercare l'applicatore corretto dei cicli scelti e poi anche nel controllare che le applicazioni siano fatte correttamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.